Buongiorno a tutti e benvenuti alla manche finale della Carriola 2. Bruno e Gino pronti alla partenza, vediamo che si coordinano. E via che sono partiti, attimo il tempo di spinta con un balzo felino di Bruno nella Carriola. Procediamo nel tratto più tecnico, lo schist di scivolamento, meno mezzo secondo e vai che forse ce la fanno anche stavolta. Siamo pronti all'ultimo tratto con un pochino più tecnico, un destra e sinistra molto veloce. Ecco il muro finale, vai Vaccaboglia ce l'abbiamo fatta questa volta! Sì, Vaccaboglia! Consegna della tigella d'oro l'hardgrana a Bruno e Gino. Pensavamo fosse amore e invece era una Carriola, se ci passate la dotta citazione. Una folla festante accoglie la gloria e la vittoria dell'equipaggio Bruno e Gino. Vamo là! E adesso tutti pronti in piedi per l'Indo Vaccaboglia. Bruno è sempre dall'altra parte! iscriviti al nostro canale!